dai e così un momento non la bocca piena ti preoccupa che quello che te trova la bocca le faccio il taglio dall'altra parte allora modello e fra il bravo sino dopo ste nove banane le faccia magna pure le voce no por favor precoce no per coce no per favore allora da per numero tiene che telefonano da un posto pubblico a 6 8 6 8 6 9 10 è stato molto bravo sei per ricompensa che voglio fare un regalo che maniera questa banana bravo eh grazie 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 grazie